Ma non solo, oggi io l'ho visto stravolto, ha perso le staffe completamente contro Brunetta, non l'ho mai visto così uscita al naturale. Mi sembrano La Fatina e Mago Zurli, hanno fatto sparire i soldi degli italiani. Se fosse successo al governo di centrodestra ci sarebbe stata la rivoluzione. Allora, io non credo, come hanno fatto i 5 Stelle, che occorra una mozione solo contro Laboschi. Bene, hanno fatto le posizioni a farle contro il governo, perché nulla lì è chiaro. E Laboschi dice in modo arrogante, votiamo subito prima delle feste, perché ha paura che nell'inchiesta esca qualche altra cosa che possa inficiare la fiducia. Quindi vediamo quello che succederà. Per ora molta arroganza.